La mancanza di segni di violenza sul corpo di Gianni Canestri, il 45enne casentinese trovato carbonizzato all'interno di un'auto in località La Nave a Bibbiena, rafforzerebbero l'ipotesi di suicidio, scartando così la pista omicidiaria. Venerdì è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo da parte dell'equipe di medicina legale di Siena guidata dal professor Gabrielli. È ancora attesa la risposta definitiva dell'esame autoptico, ma non sarebbero stati comunque riscontrati segni di violenza come lesioni, traumi o costrizioni. La morte dell'uomo sarebbe quindi avvenuta direttamente per il rogo. Saranno comunque i risultati dell'autopsia da accertare o meno la presenza di fumo all'interno dei polmoni del 45enne. Rimangono quindi ancora molti gli aspetti da chiarire, sono ancora tante le ombre su questa drammatica e misteriosa vicenda. Intanto la procura ha concesso il nulla osta alla sepoltura e ai funerali dell'uomo che lascia la moglie e una bimba piccola. I funerali saranno celebrati domenica 19 giugno a Papiano di Stia.